Giorno a tutti, oggi voglio parlare di orgoglio e pregiudizio di Jane Austen e che uscì nel 1813. La vicenda è ambientata a Longburn, dove vive la famiglia Bennet, costituita dal padre, dalla madre e da cinque figlie, rispettivamente Jane, Elizabeth, Lydia, Mary e Kitty. Ora, nella dimora di Netherfield Park, viene a stabilirsi Rico Bingley, che si innamora di Jane. I due si corteggiano fino a quando Bingley improvvisamente si trasferisce a Londra, lasciando nella disperazione Jane. E secondo la sorella Elizabeth, la causa di questa rottura consiste nelle maldicenze di un amico di Bingley, ossia il signor Darcy che non valuta positivamente la scelta dell'amico Bingley di mischiarsi fra gente di ceto inferiore. Inoltre, nel romanzo entra in scena il signor Wickham, amico delle sorelle minori di Elizabeth e dello stesso Bingley, che conferma i sospetti di Elizabeth. A questo punto Darcy propone ad Elizabeth di sposarsi, ma le rifiuta categoricamente. Passa in un mese, a un certo punto a Longburn arriva il reverendo Collin, il quale, imparentato con la famiglia Bennet, è destinato ad ereditare il patrimonio dei Bennet. Reverendo quindi fa una proposta di matrimonio ad Elizabeth, che ovviamente rifiuta. A questo punto avviene un vero e proprio colpo di scena. Improvvisamente la sorella Lydia fugge con Wickham, e due, grazie al fattivo e generoso aiuto di Darcy, riescono a sposarsi. Intanto Bingley e Jane tornano a frequentarsi, per cui in breve tempo si sposeranno per la gioia della madre, e così vede la fine della miseria. Così, allo stesso modo, la relazione sentimentale fra Darcy ed Elizabeth poco alla volta si rafforza. Questa volta Elizabeth è ben felice di sposare Darcy, visto che è una persona per bene e generosa. Tuttavia, Elizabeth, prima di sposarsi, dovrà affrontare la furia di Lady Catherine de Bourne, che è contrarissima al matrimonio del nipote, in quanto è già fidanzato con sua figlia. Leggiamo un breve stralcio. Signora Bennet, ribatte sua signoria con voce sdegnata, lei dovrebbe sapere che con me non si scherza. Due giorni fa mi è giunta all'orecchio una notizia allarmante. Mi è stato detto che non soltanto sua sorella era in procinto di maritarsi in modo assai vantaggioso, ma che lei, signorina Elizabeth Bennet, si sarebbe con tutta probabilità unita subito dopo in matrimonio a mio nipote. A mio nipote, dico, il signor Darcy. Non mi fraintenda, questo matrimonio al quale lei ha la presunzione di aspirare non potrà mai avere luogo. No, mai. Il signor Darcy è fidanzato a mia figlia. Signorina Bennet, sono sorpresa scandalizzata. Credevo di trovare lei una giovane più ragionevole, ma non se lo zinghi col credere che io possa tirarmi indietro. Non me ne andrò di qui finché non mi avrà dato l'assicurazione che esigo. Ma Elizabeth riesce a tenere puntualmente testa alla furia di Lady Catherine de Bourne, così alla fine riesce finalmente a sposarsi.